Ragusa, privilegiata dalla regione rispetto a Siracusa nel riordino della rete ospedaliera siciliana. E' quanto evidenzia il deputato autonomista Lars Pippo Gennuso, che si chiede come mai Ragusa, territorio con 100.000 abitanti in meno rispetto Siracusa, ha ottenuto tre DEA, Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di primo livello con sede a Ragusa, Vittoria Comiso e Modica Scicli, mentre solo due a Siracusa riguardano l'Umberto I e il Di Maria di Avola. La nuova rete ospedaliera siciliana prevede infatti quattro categorie di ospedali, DEA di secondo livello, DEA di primo livello, presidi di base e presidi di zona disagiata. Per quanto riguarda il bacino del sud-est siciliano, i DEA di secondo livello, i poli più grandi che hanno al loro interno i reparti di ogni disciplina, si trovano tutti a Catania, mentre IDEA di primo livello, strutture di grandi dimensioni, hanno presidi sia a Ragusa sia a Siracusa e proprio tre in territorio ebleo e due in quello a Retuseo. Decisione, a detta di Gennuso, inspiegabile e penalizzante per la provincia di Siracusa e sulla quale il deputato a Retuseo vuole vederci, chiaro. In apertura di settimana chiederò un incontro al manager dell'ASPE di Siracusa, Lucio Ficarra, e subito dopo conto di vedere a Palermo Ruggero Razza. E quanto afferma Gennuso, che continua, voglio capire cosa comporterà in termini di assistenza e di servizi. Il parlamentare Gennuso, con documenti in mano, fa sapere che l'ASPE di Ragusa ha quasi un migliaio di lavoratori in più rispetto a Siracusa. Inoltre, la nuova rete ospedaliera prevede la diminuzione dei reparti che passano da 754 rispetto agli attuali 839 e quindi 85 primari in meno. Penalizzazione in arrivo anche per l'ospedale di Noto. Secondo Gennuso, infatti, non avrebbe senso smantellare il nostro comio di Noto senza aver prima atteso la realizzazione del nuovo ospedale di Cassibile.